Buonasera a tutti, Vuelta a Espagna 2021, sesta tappa, da Rechegna ad alto della montagna di Cugliera, 160 km, in gran parte in pianura in discesa, ma con gli ultimi due, tutti all'insù, 2 km quasi, con una pendenza media intorno al 9%, quindi un finale senz'altro impegnativo, un finale che è stato già affrontato nella Vuelta della Comunità Valenziana un anno fa, con la vittoria non di uno qualsiasi, ma di Tadej Pogacar davanti ad Alejandro Valverde, e un finale che in quell'occasione ha provocato anche dei distacchi tra i big, e lo stesso come vedremo è accaduto anche nella frazione odierna. Andiamo però prima a vedere quello che è successo nelle due tappe precedenti, che si sono concluse entrambe con la rinvolata, iniziamo con la quarta tappa, quarta tappa, eccola qui, da il burgo di Osma a Molina di Aragon, e il finale sembrava più impegnativo di quello che si è arrivato in realtà, sembrava che ci fosse uno stop più duro nel arrivare al traguardo, invece è stata una tappa molto tranquilla, non ci sono stati grandi incidenti particolari, sì, c'è stata una caduta nel finale della maglia rossa Tarame, ma senza conseguenze, anche perché è venuta entro i tre chilometri dal traguardo. Tappa che si è dunque conclusa in volata, avevamo detto che Jakobsen sarebbe potuto tornare a vincere, dopo che l'avevamo già visto brillante nella prima volata di questa volta, in quel di Buggs, e in effetti il corridore della De Gein, in cui steppe olandese, ha vinto, ha battuto in rimonta a Nodemar, che questa volta era stato ben lanciato dai suoi compagni di squadra, però non è riuscito a finalizzare il lavoro. Terzo è arrivato Kurt Nielsen, il passista veloce della Education Nippo, ne riparleremo di questo atleta danese. Quarto il nostro Alberto Danese, il corridore nativo di Abrao Term, quantomeno il corridore della DSM, che è al debutto in un grande giro. Quinto è arrivato Michael Matthew, sesto l'emergente belga Allegarth, un altro giovane belga Meus, settimo, e ottavo Matteo Trentin, il secondo degli italiani, quelli dopo Danese, solamente nono Philipsen. Si è stata una volata un po' caotica, in cui il proprio modulo, il compagno di squadra di Philipsen, ha cercato di scompaginare un po' le carte, però Philipsen non è riuscito a ripetere, quanto fatto due giorni prima, e poi a chiudere la top ten, un altro italiano, vada dire il figlio d'arte Riccardo Minali, tutti insieme l'uomo di classifica, classifica generale che è rimasta invariata, con Tarme in maglia rossa. Quinta tappa, ancora più facile dal punto di vista altimetrico, quinta tappa che si è conclusa, in quel di Alba Sete, con partenza da Tarancon, 184,4 km, come vedete è praticamente piatta, si termina per il vento laterale, in effetti c'è stato vento, però alla fin fine non è successo niente, da questo punto di vista, mentre invece c'è stata questa caduta, circa 12 km al traguardo, ancora una volta di Tarame, che perderà la maglia rossa, per questo incidente diciamo, e soprattutto sono caduti altri uomini importanti, come Romain Bardet e Michel Nieve, che hanno comunque portato a termine la prova, però con un grande ritardo, e quindi sono uscite finivamente dei giochi, per la classifica generale. Ancora una volta, c'è stata volata, questa volta Jakobsen, ha approcciato lo sprint un po' troppo indietro, e quindi ha concluso sì in rimonta, ma non c'è affatto a superare il vincitore di giornata, Jasper Philipsen, che questa volta si è ben lanciato, come era avvenuto nella seconda tappa, e ha quindi portato a due i suoi successi di tappa, in questa volta e a tre in totale. Secondo è arrivato appunto Jakobsen, che ha superato negli ultimi metri, un Alberto Denese sempre più in crescita, che dunque ha migliorato rispetto al quarto posto, della frazione precedente, e si è rivisto Molano, ancora una volta quarto, e ha già arrivato quarto nella tappa di Burgos, quinto, anche lui sta migliorando i suoi piazzamenti, Allegart, poi Abel Asturi, il velocista della carriera Ural, e poi Meus, che abbiamo anche lui, abbiamo già visto davanti, anche negli sprint precedenti, ancora una top ten per Riccardo Vinali, ottavo, nono Reynard Valresbus, e solamente decimo, o no De Mar, insomma una volta finora decisamente deudente, quella del capitano della FDC, almeno per quanto riguarda gli aree involata, e come abbiamo detto, c'è stata questa caduta, che ha provocato alcuni distacchi, in particolare, come abbiamo detto, Taname, ecco qua, Taname, che è arrivato con un distacco, di 2 minuti e 21, quindi, gli dice di io, alla maglia rossa, il corridor estone, che aveva vinto in cima, al Picon Blanco, grazie a una lunga fuga, e poi, come mi ho detto, hanno perso molto terreno, Bardet e Nieve, e anche Kroisvik, ha perso oltre 4 minuti e mezzo, ma Kroisvik, ormai fuori dagli giochi più agassivi, la Jumbo Risma, appunto tutto, su Primo Zloplic, e vedete qui, molti corridori della Stana, 8 minuti e mezzo, e anche Nao, 8 minuti e mezzo, uno è Nao, che aveva già perso molto terreno, comunque sul Picon Blanco, e poi mi hanno detto di Bardet e Nieve, che sono arrivati insieme nell'ultimo gruppo, con addirittura 12 minuti e 32 di secondi di ritardo, sono comunque tutti i partiti, per la frazione odierna, la frazione odierna, in cui riprendiamo l'altimetria, che si è conclusa alla Montagna della Cugliera, e con partenza alla Vekegna, quindi siamo nella zona di Valencia, praticamente, sul Mar Mediterraneo, e eccola qua, vedete questo strappo finale, qui contrassegnato come 1,9 km all'8,7%, e se ne sono andati via in 5, vale a dire, Ball, Bo, Gibbons, Kurt Nielsen e Lindemann, e anche l'israeliano Nieve, ha tentato di portarsi su questi ateli, ma in vano, hanno guadagnato fino a 7 minuti di vantaggio, e poi si è messo a tirare, la Bike Exchange di Michael Matthews, quindi un Michael Matthews, sua carta adatto a questo tipo di arrivi, forse in realtà un po' troppo duro, per le sue caratteristiche, come poi vedremo, Matthews che è stato protagonista al finale, e poi si è scadrata comunque una grande bagarre, nel lungo tratto in pianura, che portava ai piedi della salita finale, i 5 davanti, che procedevano comunque a forte andatura, c'erano ottimi corridori davanti, come Kurt Nielsen, come Gibbons, su tutti, è un gruppo in cui, in cui c'è stata appunto animosità, per via ancora una volta del vento, perché c'è stato vento forte, anche in questa occasione, a una trentina di chilometri d'alta quadra, c'è stato un attacco del Team Sky, e poi proseguito dalla Movistar, cioè la Movistar ha proseguito azione, e sono rimasti indietro uomini importanti, abbiamo visto la maglia rossa, e l'isonde in grande crisi, e poverino, con un corridore di 55 kg, anche meno, quindi, in tappe di pianura con vento, non può che soffrire, e l'isonde che dimenticavamo, ha conquistato la leadership del generale, appunto, grazie alla caduta di Tarnam, il giorno precedente, è andato in difficoltà, il nostro ciccone, sempre della texica, credo, non abbiamo mai visto davanti, neppure, Michel Landa, è grande difficoltà, anche per Yucati, che è stato atteso, da tutta la squadra, più volte abbiamo visto staccarsi, poi entrare, probabilmente qualche problema fisico, per il capitano della Education Nip, oggi, comunque, bene o male, i migliori, sono arrivati tutti assieme, ai piedi dello strappo finale, con i 5 fuggitivi, che avevano, non più di una trentina di secondi, di vantaggio, e sembravano destinati, a essere ingogliati dal gruppo, anche perché i 5 davanti, appunto, avevano speso molto, durante tutta la giornata, quando erano in fuga, in particolare, nella seconda parte, della tappa, si sono andati molto forti, perché il gruppo dietro, minava, appunto, una grande andatura, e però, Cortaniss, ha realizzato l'impresa, ha staccato tutti i compagni, d'avventura, ed è riuscito a resistere, al ritorno, dei migliori, non di tutto il gruppo, che si è, in cui c'è stata grande selezione, appunto, su questo ultimo strappo, e quindi, Cortaniss, ne è riuscito, ad aggiudicarsi, un po' sorpresa, questa tappa, che si è conclusa, appunto, in cima, all'alto della montagna, del cui era, e che cosa è successo tra i big, e immediatamente, il primo a fare una sparata, è stato Narvaez, con una ruota carapazza, quindi gli uomini, della Ineos, Ineos, che può contare, chiaramente, come capitano, in questa volta, su Bernal, e su Adam Yates, e già da subito, sono rimasti davanti, 7-8 corridori, e c'era Roglic, davanti, come sempre, e c'era il nostro Baggioli, c'erano i tre, i capitani della Movistar, Massa e Lopez, e Valverde, e Valverde, che ricordiamo, è arrivato al secondo, su questo traguardo, un anno fa, alle spalle di Pogaccia, alla Vuelta Valenziana, e poi, ci sono stati, degli attimi di rallentamento, altri attesi sono entrati, e davanti, c'era anche Matthews, e c'era anche Vlasov, che hanno provato, anche ad andarsene, a un certo momento, forse troppo anticipata, azione di Matthews, che però, inevitabilmente, ha dovuto partire, molto prima, degli ultimi 200, 200-300 metri, perché c'era da riprendere, Kurt Nielsen, che era ancora davanti, però niente, non ce l'hanno fatta, né Matthews, né un comunque, brillante Vlasov, a chiudere, sui uomini di testa, sui, appunto, sui uomini di testa, su Kurt Nielsen, e alla fine, a fare la differenza, è stato, rimarchabilmente, sempre lui, Primoz Rogic, Primoz Rogic, che ha dato, che ha dato impressione, di poter anche saltare, nel corso Nielsen, negli ultimi metri, ora, non sappiamo, se lo abbia lasciato vincere, ricordate, le polemiche, che c'erano state, nella parigi Nizza, quando, ha saltato, negli ultimi metri, Mader, Rogic, che era sempre, ampiamente leader, di quella corsa, a tappe transalpina, e non aveva bisogno, di conquistare, quel successo di tappa, e appunto, diciamo, non sappiamo, se, non ce l'ha fatta, a superare, Kurt Nielsen, oppure se l'ha lasciato vincere, sa di fatto, che Kurt Nielsen, è riuscito ad imporsi, e immediatamente, la sua ruota, è arrivato, Primoz Rogic, e terzo, un brillante, Andrea Baggioli, Baggioli, molto bene, quindi il corridore, valtellinese, molto adatto, a questo tipo di arrivi, che ha concluso, con due secondi di ritardo, poi, quarto posto, per Vlasov, che abbiamo detto, brillante oggi, quinto posto, per Mass, e attenzione a Mass, che sembra, andare più forte, rispetto al Tour de France, e ricordiamo, nella tappa del Picon Blanco, è stato lui, il migliore, tra gli uomini di classifica, e quindi, un Musk, sembra, ampiamente proiettato, quantomeno, per, per un posto sul podio, in questa volta, sesto, come abbiamo detto, Matthews a sei secondi, Bernard, settimo, otto secondi, un po', come Picon Blanco, si è sempre mantenuto, al gruppo dei migliori, ma nelle retropie, dello stesso, non sembra avere, quell'esplosività, che aveva al Giro d'Italia, comunque, è sempre lì, è arrivato con i migliori, poi, il marce scibile, e Valverde, otto secondi, nono Lopez, a nove secondi, un Lopez, che ha anche provato ad attaccare, a un certo punto, sulla salita finale, beh, se Lopez, va così forte, sulle salite di due chilometri, vuol dire, che su quelle di dieci, quindici chilometri, e in questa volta, ce ne sono, potrebbe fare sfracelli, quindi, attenzione a lui, decimo, e si riscatta, dopo la defiance, sul picon blanco, e Felix Goschatler, che è una teta, peraltro, adatto a questo tipo di arrivi, un anno fa, nella tappa di Swans, che è abbastanza simile a questa, è arrivato secondo, alle spalle di Roglic, poi, non male, il regolarista della Cruz, un dicesimo a 21 secondi, circa il dodicesimo a 25 secondi, è stata una giornata difficile, quella del scalatore abruzzese, è una tappa così, quasi completamente vianeggiante, certamente, è abbastanza indigesta, per le sue caratteristiche, ha dovuto limitare i danni, e tutto sommato, ci è riuscito, stesso discorso, anche per Fabio Haru, che è arrivato a 16esimo a 27 secondi, chiaro, per entrambi, un passo indietro, rispetto a Picon Blanco, però, su un arrivo, per entrambi, meno adatto, alle rispettive caratteristiche, rispetto a quello, che è stato, appunto, il primo rima in salita, di questa volta, e battute d'arresto, anche per Adam Yates, 13esimo a 25 secondi, malgrado la Inros, abbia fatto fuoco a fiamme, per tutto il giorno, e compreso, con quell'azione di Darweiss, ai piedi, dello strappo finale, e ancora bene, Jan Polans, 14esimo a 27 secondi, poi vedremo, se alla lunga, il capitano della UE, diventerà della Cruz, o se faranno, comunque corsa parallela, i due per l'aggressività generale, 15esimo a Rambu, forse è troppo duro, questo è un rio, per le sue caratteristiche, ha provato, comunque, a rimanere con i migliori, il corridore della Stana, il basco, 27 secondi anche per lui, e poi, in questo gruppo, è arrivato anche il giovane, Kron, è arrivato Mentis, che si è difeso, che su un rio, non suo, Landa, è arrivato a 19esimo a 27 secondi, e non l'abbiamo mai visto davanti, oggi, non è lui nella sua squadra, quindi non sappiamo, se abbiano avuto, una giornata difficile, e va detto, che non era comunque, questo un rio per Landa, certo che, sono 27 secondi, più gli abboni, nei confronti di Rocky, sono abbastanza, e considerando, che la salita finale, era di solito 2 km, poi, Carapaz, in ripresa, rispetto a Picon Blanco, 27 secondi, anche lui, Champou-Sein, il giovane, l'acete sera, anche lui in ripresa, Moulard, adatto a questo tipo di arrivi, chiude questo blotoncino, è arrivato a 27 secondi, andiamo a vedere, altri corritori, come si non erano piazzati, Storre, a questo punto diventa, forse lui, l'uomo di classifica, della DSM, visti i minuti persi a Bardet, è arrivato a 34 secondi, poi, andiamo a vedere, Guillaume Martin, che è già fuori classifica, è arrivato a 50 secondi, il capitano della Cofidis, Carmichan, che era terzo in classifica, anche lui presente nella fuga, nella tappa vinta da Tarme, è arrivato a 36esimo, a 53 secondi, dunque, giornata abbastanza difficile per lui, e anche gli altri atleti, della Banevittorio, non sono stati brillanti, Eiger, 34 secondi, Paduna, 59, e Caruso, è arrivato molto indietro, perché è rimasto attardato, probabilmente, il primo ventaglio, quindi, è uscito definitivamente, di classifica, il veterano siciliano, andiamo via via, a scorrere la classifica, anche oggi, a parte di Roglic, non molto davanti, gli altri dettagli umbovismo, è arrivato qui a un minuto, Grosjevic, 1 a 14, Carlo, della Education Nippa, 1 minuto 18, abbiamo detto, per Jukarty, è stata una giornata nerissima, intanto, vediamo, Ports e Median, anche loro in ritardo, 1 minuto 27, sempre della Education Nippa, è sempre da bene in victorio, scusate, diciamo, giornata nerissima, per Carty, che ha concluso, a 2 minuti e 50, e quindi, un anno fa, è arrivato sul podio, alla volta, e quest'anno, evidentemente, non ci arriverà, e via via, tutti gli altri, i fratelli, Zagir, sono arrivati insieme, a 3,52, e lì Sondre, si è staccato subito, sulla salita finale, oggi, ha sofferto, moltissimo, quello colui, che era il leader, della generale, è arrivato, con distacco, di 4 minuti e mezzo, ecco qua, Caruso, lo troviamo, qui in questo, clodoncino, 5 minuti e dolci, comprendente, anche Phillips, addirittura, tanto per dirne una, un Caruso, che si metterà, a completa disposizione, di Landa, cercando, cercando magari, anche il, risultato personale, in una delle prossime tappe di montagna, perché tutto sommato, a Picon Blanco, si era abbastanza ben comportato, il, la teta che è arrivato, secondo al Giro d'Italia, e via via tutti gli altri, e Pitcock, lo troviamo, qui a 6 minuti e 27, per citarne alcuni, e ancora, distacchi pesanti, 8 minuti, 9 minuti, e noi in questo gruppone, a 9 minuti e 35, si era già staccato, prima della salita finale, per via del vento, troviamo, Rafa Mike, tra gli altri, in questo gruppo, che era comunque, già fuori classifica, e via via, altri atleti, anche Molano, sempre della UE, e Molano, che però, chiaramente, è un velocista, e poi, si è una sola presa comoda, anche gli atleti, che avevano perso terreno, ieri, per le cadute, e Zvioff, che poteva essere, l'uomo di classifica, della Bola, oltre a Groschat, è arrivato ad oggi, il 53, e, anche, tra gli altri, 6 momenti, e l'umbovisma, tutti questi atleti, sono staccati, ben prima, della salita finale, eccoli qua, Bardet e Nieve, in ambie due, a 13.01, anche un altro, scalatore, come Irt, che è arrivato, con questo ritardo, che proverà qualcosa, evidentemente, nell'etapa di montagna, ultimo, Wood Schmitz, anche lui, coinvolto nella caduta, nella tappa di ieri, con un distacco, di 20 minuti, e 43 secondi, quindi, una classifica generale, che si è decisamente allungata, al termine, della frazione odierna, ricordiamo, che Lissonde, era il leader, con 5 secondi, di marge su Roglic, che ora, troviamo, saldamente al comando, con alle spalle, ben 3 atleti, della Movistar, 3 atleti, che sono degli avversari, credibili, magari non Valverde, però, Massa e Lopez, sicuramente lo sono, 25, 36, e 41 secondi, in ritardo, di questi 3 uomini, Massa, Lopez, e Valverde, in l'ordine, così come, 41 secondi, il ritardo di Bernal, Lasov è risalito, al sesto posto, 53 secondi, Ciccone, nonostante una giornata difficile, comunque, ha mantenuto la sua settima posizione, a 58 secondi, Carme Jeanne, che ha cercato di rimanere con i migliori, lui che è la terza, in classifica generale, ha perso del terreno, a 1 minuto e 04, chiaramente, quando arriveranno le montagne Vespa, girate le prime posizioni, la teta francese, poi Landa, ci ha comunque mantenuto il nono posto, con distacco di 1 minuto e 12, e Aru, che ha conquistato comunque la top 10, a 1 minuto e 17, abbiamo detto, non è andato molto bene, oggi, Adam Yates, che è comunque risalito all'undicesimo posto, a 1 minuto e 22, ricordiamo che Yates aveva perso terreno, nelle cadute in una delle prime tappe, aveva perso 31 secondi, per esattezza, e Polans risalito al 12esimo posto, a 1 minuto e 42, e molto bene anche il corridore della Rusca al terzo, che è tredicesimo, a 1,55, probabilmente non si aspettava di trovarsi, in questa posizione, a questo punto della volta, Lopez, il giovane scalatore della Tex Gaffredo, che oggi si è comunque difeso, è arrivato a 2,05, Go Shatner, in ripresa a 2,09, e Meder ha perso, invece del terreno, a 2 minuti e 13, Della Cruz, che ricordiamo è handicappato anche lui, ha perso a 1 minuto e 11, nella caduta, nella tappa di Burgos, risalito al 17esimo posto, a 2,14, Carapaz, che ancora non è del tutto tagliato fuori, al di là del fatto che non sembra avere la condizione del tour, ora, 18esimo, 2 minuto e 18, poi, Mentes, 19esimo, 2 minuto e 19, e chiude la top 10, Bayer, il giovane scalatore dell'Alpesin, che ha un distacco di 2 minuti e 38, e andiamo a cercare altri uomini, ecco, Pulse per esempio, oggi come detto ha perso diverso terreno, è scivolato al 28esimo posto, a 3 minuti e 19, ecco qua, Carti addirittura, 33esimo a 4,28, davanti a Delisonde, che è precipitato a 4,31, e al nostro Baggioli, che chiaramente non fa classifica, ha guadagnato comunque 20 posizioni, oggi, grazie a questo terzo posto di giornata, 35esimo a 4 minuti e 58, e Guillaume Marten, è già a 5 minuti e 04, abbiamo già citato, il leader da Cofidis, via via tutti gli altri, Caruso a 6,08, come detto si mette a disposizione di Landa, Lucas Hamilton, comunque fuori classifica, al pari del suo compagno Neve, ha un distacco di 6 minuti e 48, e via via tutti gli altri, ecco, per la cronaca, ultimo, è il nostro Cimo Lai, il velocista della Isla, 182esimo a 44 minuti e 49, sono, erano 184, i partenti a questa volta, sono rimasti in 182, beh, una classifica che però cambierà ancora, al termine della settima tappa, quella di domani, che andiamo a vedere, ecco, restiamo su Play Pro Cycling Stats, settima tappa, che è il secondo vero arrivo in salita, di questa volta, da Gandia a Borgonde Alicante, una tappa decisamente nervosa, scusate, restiamo su questa grafica, in modo che si veda durante la registrazione, ecco qua, ci sono 6 Gran Premi della Montagna, il primo già molto impegnativo, il Puerto D'Aliacuna, 9,4 chilometri al 6,2%, praticamente in partenza, poi il Puerto del Benignioba, il Puerto del Tudons, il Puerto del Collao, e il Puerto del Tibi, tutte salite non durissime, di seconda e terza categoria, e poi c'è questa scesa finale, un'escesa di 8,4 chilometri al 6,4%, che porta ai 995 metri il Balcone Alicante, però attenzione, perché è una salita morbida nella prima parte, però gli ultimi 4-5 chilometri, hanno pendenze costantemente intorno al 10%, e quindi ci sarà certamente selezione, probabilmente più selezione, di quella che c'è stata da Ubi con Blanco, da verificare anche quali saranno le condizioni metro, di questa frazione. Vedremo se i tre corridori della Movistar, cercheranno già da domani di attaccare Roglic, vedremo se si comporterà Egan Bernal, vedremo se Giulio Ciccone e Fabio Aro, su un arrivo abbastanza adatto alle loro caratteristiche, riusciranno a farsi valere, e quindi a guadagnare qualche posizione in classifica. Vediamo quindi da subito appuntamento, alla settima tappa della Vuelta, appunto con la prima salita dal Balcone dell'Alicante, e ciao a tutti!